Missione istituzionale in Sud America dal 19 al 24 novembre per il sindaco di comune città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, insieme tra l'altro all'assessore comunale al welfare Sara Funaro, al presidente della fondazione Meyer Gian Paolo Donzelli e al presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. Obiettivo rinsaldare i rapporti tra Firenze e la città brasiliana di Salvador Bahia, con cui nel 91 è stato firmato il patto di gemellaggio, e con la città argentina di Buenos Aires, dove è stato presentato il sistema città, per trovare nuove opportunità di dialogo, lo sviluppo del turismo e avviare progetti di collaborazione con alcune realtà sociali e sanitarie locali. A Salvador Bahia la delegazione è stata ricevuta dal governatore dello Stato di Bahia. Ha visitato inoltre le realtà del progetto Agata Smeralda, con cui il comune collabora continuativamente, e alcuni ospedali locali. Tra i progetti definiti durante la missione è il potenziamento del progetto Axè, per il sostegno ai giovani in difficoltà, grazie ad attività legate a musica e moda. Si pensa di coinvolgere in futuro anche la Scuola di Musica di Fiesole, alcune aziende di moda fiorentine e il Polimoda, che in passato ha già avuto modo di collaborare con la realtà fondata dal fiorentino Cesare De Florio Larocca. I giovani hanno dato il benvenuto agli ospiti fiorentini con un'esibizione di musica con strumenti a percussione. In Argentina visita all'ospedale italiano incontri con i vertici della città autonoma di Buenos Aires, ai quali il sindaco metropolitano ha proposto una collaborazione sul trasporto pubblico urbano e sulla promozione di una tournée argentina del maggio musicale nel 2019. Ma anche con il tour operator, ai quali il sindaco ha presentato la Firenze metropolitana, con la locale Confindustria e con i principali imprenditori italiani in Argentina. Durante la visita all'aeroporto di Montevideo, Nardella ha sottolineato come quello che è stato premiato come migliore aeroporto dell'America Latina nel 2016 sia un ottimo modello di riferimento per la realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal fiorentino. Omaggio inoltre ad Esapare Sidos al Parco della Memoria.